Negli ultimi giorni finanzieri su disposizione della locale procura della Repubblica hanno sequestrato immobili, quote societarie, auto mezzo e disponibilità finanziaria per un valore complessivo di oltre 700 mila euro in esecuzione dei provvedimenti di sequestro emessi nei confronti di tre imprenditori palermitani, due dei quali titolari di aziende di autotrasporto e un altro amministratore unico di un'impresa operante all'interno del locale mercato ortofrutticolo, tutti denunciati per evasione fiscale a conclusione delle verifiche eseguite dalle stesse fiamme gialle. Nel primo caso il provvedimento è stato emesso in via d'urgenza dal pubblico ministero, titolare del fascicolo, nei confronti di un 37enne titolare di una ditta individuale di trasporto merce su strada ed indagato per aver omesso di versare le imposte dovute per gli anni del 2008 al 2011. Il sequestro d'urgenza si era reso necessario in quanto era emerso che l'imprenditore, consapevole degli accertamenti svolti nei suoi confronti, era in procinto di disfarsi del proprio patrimonio per sottrarle alle pretese erariali. A suo carico sono state così sequestrate 22 veicoli utilizzati per l'esercizio dell'attività d'impresa, nonché disponibilità finanziarie, per un ammontare complessivo di circa 440 mila euro, pari al totale dell'IVA non versata per le annualità di imposte interessate. Il secondo provvedimento ha riguardato un 32enne amministratore unico di un'azienda di autotrasporti palermitani, al quale la Guardia di Finanza nel 2011 aveva contestato, tra l'altro, l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti riferiti ad asseriti rapporti economici intrattenuti con altre imprese di autotrasporto e con un fornitore di veicoli industriali, in realtà mai acquistati. Per tale condotta l'amministratore della società verificata era stato denunciato alla Procura della Repubblica e anche in questo caso era stata avanzata una richiesta di sequestro preventivo, ora accolta dal GIP del Tribunale Cittadino. È stato così sequestrato un immobile e sono state bloccate contestualmente disponibilità finanziarie intestate allo stesso amministratore per un valore complessivo di circa 170.000 euro. Da ultimo un ulteriore provvedimento di sequestro è stato firmato dal GIP del Tribunale di Palermo a carico di un 47enne amministratore unico di una società operante all'interno del mercato ortofrutticolo del capoluogo siciliano. Anche in questo caso l'attività deriva da un precedente verifica fiscale eseguita dalle fiamme gialle nel 2011, durante la quale, grazie al rinvenimento di copiosa documentazione extracontabile, i finanzieri avevano potuto rideterminare il reale volume d'affari dell'azienda, constatando un'evasione delle imposte per oltre 110.000 euro. Le fiamme gialle hanno così proceduto al sequestro delle quote di proprietà di cinque immobili nella titolare dell'indagato e delle quote societarie di due società allo stesso riconducibili, per un valore corrispondente alle imposte non pagate. Max operazione di contrasto alla produzione allo spaccio di sostanze stupefacenti. Nel weekend i carabinieri hanno arrestato quattro persone, tra Villagrazia di Palermo e il centro città, sequestrando grossi quantitativi di droga, hashish, marijuana, eroina e cocaina. Nello specifico, gli agenti, seguendo una pista, hanno fatto eruzione nel capannone, sito in fondo bagnera, trovando Michele Gregoli mentre curava la propria plantagione. Nel capannone si occultava una vera e propria serra, divisa in tre settori, con un'anticamera e due stanze piene di vasi di plastica con terra e resti di canapa indiana. Rivenuto anche un sistema di impianti di deumidificazione, essiccamento ed illuminazione, collegato abusivamente alla rete elettrica, tramite un bypass utilizzato per ingannare il contatore. In un altro magazzino, sempre intestato a Gregoli, sono stati ritrovati parecchi fusti vuoti, una presa idraulica appositamente modificata per confezionare panetti da 20 chili, 80 grammi di cocaina e 24 di eroina. Inoltre, i carabinieri, in un'area frequentata da spacciatori e tossicondipendenti, hanno adocchiato un uomo, Enzo Lonardo, fermo e con atteggiamenti sospetti di fronte a un'osteria. Successivamente è arrivato un altro giovane, utilizzato come tramite dei pusher per prendere contatti con l'acquirente. Dunque i due si sono diretti verso via Cappuccinelli, dove lo spacciatore ha recuperato da qualche incavo un involucro da cedere all'uomo che lo attendeva sul ciglio della strada. Conclusa la transazione, il giovane, disoccupato e pregiudicato per reati inerenti allo spaccio, è stato fermato di fronte all'osteria dove sostava abitualmente. Passando al setaccio il vicolo incriminato, i carabinieri hanno trovato dietro ad una porta di metallo accostata, sotto delle cassette di legno, 48 bustine di plastica contenenti 84 grammi di marijuana e 15 grammi di hashish, suddiviso i stecche. Trovato inoltre un contenitore per le urine, col suo interno circa 10 grammi di eroina. Infine altre due persone, Giovanni Crivello di Capaci e Francesco Paolo Salvatore Geraci di Palermo, sono state arrestate dai carabinieri dopo essere stati trovati in possesso di sostanze stupefacenti. Il primo, nulla facente ed incensurato, è stato incastrato a seguito di una perquisizione domiciliare, durante la quale sono stati trovati circa 150 grammi di hashish e 520 euro in contanti. Il secondo incensurato è stato fermato per detenzione ai fini di spaccio, perquisendo la sua abitazione e il box, sono stati ritrovati 10 grammi di canapa, suddivisa in dosi ed un bilaccino di previsione. Tutti e quattro gli uomini sono stati tratti in arresto e condotti a Lucciardone. Dire no all'aumento della tarso approvata dalla giunta comunale, con questo obiettivo sono scesi in piazza Terrasini cittadini per sostenere il comitato promotore. La soluzione sarebbe sicuramente la raccolta differenziata e che il sindaco ritirasse questo aumento che è del tutto illegale, sia come è stato comunicato, sia proprio legalmente, perché non si possono fare tasse retroattive e quindi noi gli proponiamo serenamente in questo momento di accettare queste richieste dei cittadini di togliere questa tassa e se la cosa invece andrà avanti arriveremo per vie legali e continueremo la nostra lotta perché è un soppruso. Ma quanto è fattibile questa vostra proposta nel momento in cui ci troviamo? Dipende dalla volontà, sicuramente lui dice che questa è una sua maniera per recuperare i soldi, ma il problema è che lui non ha recuperato i soldi che gli dovevano essere dati dagli altri cittadini e sta caricando ancora soltanto sugli onesti, sempre sugli onesti, una tassa che non è legale, per cui è illegale, non può farla, per noi è veramente impossibile, è una cosa fuori da ogni regola. No all'aumento della Tarsu perché il servizio non è efficiente, il coro di protesta dei cittadini di Terrasini, ma il sindaco Massimo Cucinella non ci sta e spiega che l'aumento dell'imposta per il servizio e la raccolta dei rifiuti è stato obbligatorio. Che il servizio di raccolta sia assolutamente inefficiente e che non rispecchi i costi che noi paghiamo credo che sia sotto gli occhi di tutti. Va bene il controllo perché in democrazia gli organi sono chiamati a controllare e anche se dall'esterno fanno bene a controllare e a vigilare. A me dispiace quando vedo strumentalizzazioni, bisogna anche spiegare alla gente che l'aumento del costo, io lo farò e non ho problemi, l'aumento del costo della spazzatura è stato determinato dal fatto che è arrivato a livelli insopportabili, ma costa 2 milioni e 500 mila euro. Io nel bilancio del 2012 ho dovuto mettere la copertura totale del costo e questo ha determinato un aumento del 50%. Precedentemente si faceva così, si stabiliva una tariffa, 1.700.000 euro e il resto si prendevano i soldi dal bilancio comunale. Oggi nel bilancio comunale non c'è nulla, anzi la gente non paga la Tarsu, oggi con queste sollecitazioni credo che avremo anche minori entrate, perché quando si dice non pagate perché la tassa è legittima è chiaro che la gente rimane basita. Qualcuno va dicendo pure che è il sindaco che l'ha detto, non ho mai detto niente di tutto ciò, anzi lo dico pubblicamente, che la tassa della Tarsu va pagata, anche se può sembrare in questo momento ingiusta rispetto al servizio dato, ma è un dovere civico farlo perché consente non all'amministrazione di lavorare, perché l'amministrazione non fa altro che prendere i soldi trasferiti dai cittadini e mandarli al lato. L'obiettivo è quello di creare una consulta per controllare dall'esterno la società che gestisce la raccolta, dice Buonmarito, uno degli organizzatori. Vogliamo istituire una consulta perché con queste nuove disposizioni di legge che indicano che per i comuni nell'ambito del lato, dell'area ottimale di raccolta, possono organizzarsi in queste aree di raccolta ottimale, le famose aro, ora c'è questa circolazione che parla delle aree, quindi alcuni comuni, quindi due, tre comuni, sempre nell'ambito territoriale in principale, possono consorziare e affidare a una società la gestione della raccolta. Bene, la consulta per noi è importante perché noi vogliamo ora controllare l'operato dei sindaci, controllare a chi affidano questa gestione raccolta, perché questo è importante, perché i dieci anni di fallimento di prima non possiamo più permetterceli. A Partinico, in vista delle prossime elezioni amministrative, i fermenti non mancano e tutto viene proiettato alle esigenze, ai problemi, ai disagi del nostro territorio e all'attivezione di percorsi per rilanciare il Paese. Al fine di capire sensazioni e proposte, abbiamo raccolto testimonianze di ex amministratori, nonché il consigliere di opposizione Pietro Di Trapani, che lancia la candidatura a sindaco del consigliere Santino Aiello. Consigliere Di Trapani, una domanda a bruciapelo. Ho sentito che lei è candidato a sindaco. Ma così dicono le persone... Ma sì, ma dicono, ma lei che ne pensa? No, non penso affatto. Lungi da me, candidato a sindaco in questo momento a Partinico, un Paese terremotato, un Paese che non ha più niente da offrire a nessuno e a niente, un Paese abbandonato da tutti, specialmente da questa amministrazione che è stato un fallimento totale. Qualcuno aveva l'impressione che con il sindaco giovane e un'amministrazione giovane le cose sarebbero cambiate, non è cambiato niente, anzi si è affossato più questo Paese. Ci sono state alcune voci quando ha presentato il programma questo sindaco, dicendo che doveva aggiustare le strade, doveva aggiustare il campo sportivo, doveva partire dal Policentro con un protocollo d'intesa, doveva partire dall'artigianale, l'Abertronino si doveva decolazzare, non ha fatto niente completamente, Partinico ha abbandonato totale. L'unico sindaco, io una figura di sindaco ce l'ho, è l'architetto Aiello, una persona seria, una persona per bene, una persona che potrebbe fare il futuro di questo Paese, ma è me, la gente lo voterà, punto interrogativo. Secondo lei, quale caratteristiche deve ricoprire un candidato a sindaco? Un candidato a sindaco l'unica caratteristica che deve avere è quella di guardare la politica per quello che significa nel vero senso della parola la politica e quindi essere a servizio del Paese. È in base a quelle che sono le risorse principalmente economiche e avere il buon senso di distribuirle per quelle che sono le necessità che ha bisogno il Paese stesso. Ma lei è fuori dalla politica? No, personalmente non sono più una persona che si candiderà a nessuna cosa. Certo, avendo fatto una vita politica, farò il mio ragionamento e supporterò una persona che ritengo che sia nelle condizioni di poter portare avanti quelli che sono i bisogni del Paese. Quali sono le caratteristiche che deve ricoprire un candidato a sindaco? Deve essere una persona che deve conoscere il nostro Paese con grande esperienza, perché sa benissimo le problematiche che ci sono nel nostro Paese e credo che non viene facile a scegliere. Secondo me bisogna fare delle primarie, mettersi delle persone che abbiano la buona volontà di mettere il proprio sentimento su questo Paese e credo che se facciamo le primarie riusciremo a trovare una persona che guida questo Paese perché ne ha bisogno questo Paese. Il Movimento 5 Stelle, che ha attecchito pure nella nostra città, continua il suo percorso di dialogo con la gente. Alla ribalta varie problematiche che vanno dall'ambienta alla partecipazione, alla tutela dei diritti e ad altre emergenze del territorio. In un apposito gazebo allestito per l'occasione nella piazza principale, la distribuzione di volantini per raccogliere rumori, proposte e idee finalizzate al rilancio della città. Il loro punto cardine è la partecipazione dei cittadini alla gestione della cosa pubblica. Uno dei principi è proprio la partecipazione. Noi non ci limitiamo a riunirci periodicamente all'interno di un circolo chiuso e sviluppare delle nostre idee. Qual è la forza delle vostre idee? È la buona volontà, è il voler portare avanti dei principi di innovazione nei temi che riteniamo fondamentali per il futuro della cittadinanza, della regione e della nazione, che sono l'ambiente, l'energia, la trasparenza, la partecipazione. Aspetti che sono stati molto trascurati negli ultimi decenni e che il movimento vuole riportare alla ribalta e soprattutto fare in modo che la popolazione possa partecipare, avere una vita attiva all'interno della vita politica di una qualsiasi comunità. Cosa ne pensi del centro storico di Partinico? È un bel centro storico che dovrebbe essere rivalutato, poco vissuto, ci sono alcuni angoli, negozi chiusi che andrebbero rivalutati, rivisti e bisognerebbe rivalutare il centro storico di Partinico. Considerato che parliamo di partecipazione, qual è l'appello? Noi invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare, ad attivarsi, a rendersi parte attiva della politica del nostro Paese, perché è passato, è trascorso il momento della delega del voto, non ci sono più politici che ci possano rappresentare, è finito il momento delle false promesse, non c'è più niente da promettere, dobbiamo prendere in mano il nostro futuro e cominciare ad essere il cambiamento che vogliamo per il nostro Paese. Entro il 20 marzo verranno consegnati alla ditta giudicataria i lavori per la manutenzione straordinaria di 20 strade di Partinico. Le somme per opera sono state recuperate grazie a rimodulazione di 7 mutui e residui, contratti con la Cassa Depositi e Prestiti, che ha permesso la riutilizzazione di 230 mila euro di fondi mai spesi. Ad aggiudicarsi la gara nel mese di ottobre è stata la ditta Cucchiara Fina Daniela di Mazzara del Vallo, con un ribasso del 27,125%, mentre l'importo a base d'asta è stato di 180 mila euro. Il contratto è stato sottoscritto nelle scorse settimane. Con la firma del contratto e la consegna dei lavori di fatto si conclude tutto l'iter amministrativo, sottolinea l'assessore ai lavori pubblici Gianlivio Provenzano. Per utilizzare al meglio l'asfalto abbiamo atteso per motivi tecnici il miglioramento delle condizioni meteo. Le opere partiranno entro la fine del mese di marzo. Questi lavori permetteranno di migliorare la viabilità in molti punti della città. Come amministrazione abbiamo puntato moltissimo sul recupero delle somme residue non spese in passato, conclude il sindaco di Partinico Salvolo Biondo. Il nostro lavoro ha indirizzato gli uffici che hanno svolto un compito eccezionale nel rintracciare queste somme nelle piaghe dimenticate dei bilanci precedenti. Sono state recuperate somme eccedenti risalenti per fino agli anni Ottanta. Finora con queste politiche siamo riusciti a reinvestire circa 700 mila euro. Altre 300 mila euro sono pronte per essere rendicontate. Per non creare disagi ai cittadini durante i lavori emaneremo ordinanze apposite per indicare il percorso viario alternativo. Era da decenni che la città attendeva una mirata a manutenzione straordinaria dagli assi viari principali. Stretto tra la morsa delle minori entrate da Stato e Regione e dalla crescente evasione fiscale dei residenti. A causa della profonda crisi economica il Comune di Carini non ha più risorse per i crediti vantati dal lato rifiuti. Così a spingere l'ente verso il baratro del fallimento contribuiscono anche tutti coloro che non sono in regola con i tributi locali, complici di un eventuale disastroso buco nel bilancio. Ne è convinto il sindaco Giuseppe Agrusa, costretto a difendersi dalle feroci polemiche di quanti non sopportano più un territorio invaso dalla spazzatura. In questi giorni le periferie urbane cominciano a riempirsi nuovamente di discariche abusive, ma i numerosi snocciolati del primo cittadino parlano chiaro. De 7,5 milioni di euro previsti per la Tarso ne sarebbero stati versati circa 3,3 milioni. Anche il zettito dell'evasione della vecchia ICI ha un vistoso segno negativo. Un milione di euro invece dai 2,5 previsti nel ruolo contabile. Una zavorra pesante da recuperare, origine di tagli più o meno consistenti a investimenti e servizi. Il sindaco non ci sta a subire e lancia un nuovo appello ai residenti. Non possiamo protestare e pretendere i servizi, dice Agrusa, se poi non pagano le tasse. Quasi la metà dei residenti evade la Tarsu, mentre la percentuale sale a circa il 60% tra i titolari degli esercizi commerciali. Anche dai ruoli coattivi affidati alle agenzie di riscossione non arrivano sufficienti risorse. Il costo del servizio di raccolta dei rifiuti ammonta a quasi 8 milioni l'anno. È chiaro che l'amministrazione comunale, per fare quadrare i conti, deve necessariamente operare dettagli. Vengono penalizzati i servizi alla persona, la manutenzione di strade e strutture, la cultura e lo sport. Anche da lì ci gli introiti sono inferiori della metà rispetto a quanto previsto. Il non pagare le tasse, purtroppo, è una cattiva abitudine che proviene dal passato. È non solo colpa della crisi economica, ma contro i furbetti e gli evasori totali. Il Comune si sta attrezzando con una banca dati per il controllo degli evasori. Dal prossimo mese, inoltre, partirà una campagna mediatica contro di loro. Se la gente non paga il dovuto, non può lamentarsi dei disservizi e dell'eventuale futuro aumento delle aliquote. Lo stato di crisi sta coinvolgendo comunque anche gli altri 11 comuni del lato rifiuti Palermo 1. Il commissario liquidatore, Antonio Geraci, ha più volte lanciato l'allarme di un'imminente emergenza rifiuti nel territorio della fascia costiera ad ovest del capoluogo. Tutte le responsabilità non possono ricadere solo su noi sindaci, conclude Giuseppe Agrusa, anche perché non siamo stati eletti per fare miracoli, ma per amministrare quando ci sono risorse. Pagando tutti si può pagare di meno, con più servizi. Non ci può essere civiltà senza il rispetto delle regole. La festività di San Giuseppe è molto sentita nel nostro territorio. Sotto i riflettori la fede, la tradizione e la devozione. Giovani confrati e veterani in un percorso comune che va verso l'amore e i valori cristiani. Nonostante le ristrettezze economiche dovute alla crisi, la congregazione di San Giuseppe ha voluto porgere in maniera umile onore al Santo, includendo nel programma, oltre alle sante messe, anche la sfilata dei carretti per esaltare la sicilianità. Leonardo, tu hai appena 21 anni e sei iscritto alla congregazione di San Giuseppe. Perché? Allora, perché ho avuto, fin da piccolo, una devozione a San Giuseppe e ho pronunciato alla confraternita se mi potevo iscrivere. Alla confraternita mi ha detto di sì. A 18 anni mi sono iscritto nella confraternita di San Giuseppe e fin da 18 anni ho avuto sempre la devozione per San Giuseppe. Tu hai la sensazione che tra i giovani c'è la devozione e la fede nei confronti di San Giuseppe? Ci sono quelli che partecipano alla processione e alla fesce di San Giuseppe, come tutti gli anni, e vengono assiditi nella chiesa di San Giuseppe. Sono anche io devoto del Patriarca San Giuseppe e dico di lui che è una cosa sola, che mi dà più affetto, più amore verso Cristo perché lui è servo di Dio e ci dà la sensazione di vivere e di andare avanti con la fede nel Signore Gesù Cristo. E quindi tutte le persone, tutti i ragazzi vengono qui e assistono alla messa di San Giuseppe. Cosa vuoi dire ai ragazzi giovani come te? Beh, ai ragazzi giovani come me vorrei dire che provino perché se una cosa non si prova, non si può giudicare perché quando si ha una grande devozione a San Giuseppe e l'unica cosa è stare accanto a lui perché lui ti dà una grinta e una grande forza, ti dà una grande forza di andare avanti. E quindi questo è proprio il messaggio che voglio dire ai ragazzi, provate, provate, come dice anche la parola del Signore, chiedete e vi sarà dato. Come è organizzata la festa di San Giuseppe? La festa di San Giuseppe è organizzata come processione come tutti gli anni, però quest'anno vista la grande crisi che c'è, ognuno non si può disporre di dare un obolo più consistente, siamo riusciti a coprire solamente le spese. Però con tutto ciò a noi quello che interessa di più è la fede, credere in Gesù Cristo innanzitutto e in Dio e poi a San Giuseppe. Faremo solamente che ce la stanno offrendo gratis una sfilata di carri siciliani organizzata dal Signor Pelletteri e poi ci saranno i Vespri Solenni che questa è la serata clou della novena e la processione lì domani alle 17.30 che partiamo. Un invito a tutti i cittadini di partecipare con fede perché per ora c'è bisogno di fede perché i valori stanno già andando a rotoli e quindi di partecipare in massa alla processione. Quello che più interessa a noi è questo, diciamo, di avere fede e credere in Dio. Avvertite questa fede tra i cittadini? Io sì, io avverto la fede in San Giuseppe e in Gesù Cristo perché c'è da bambino che sono qua. Qual è la devozione nei confronti di San Giuseppe? Meglio di quella che può essere perché io sono circa 22 anni che sono iscritto nella confraterna di San Giuseppe perché lo sentivo in me stesso. Poi grazie a un amico, Ciccio, la Franca, sinceramente mi sono avvicinato un pochettino di più perché forse era proprio che mi chiamava. Presidente, è un valore la tradizione e la festività di San Giuseppe. Qual è il messaggio e l'appello che lei vuole fare ai cittadini? Allora, il messaggio che voglio fare a tutti i cittadini di Pertinico è che prima di tutto che ci scusiamo perché non è stato possibile fare l'illuminazione per le vie che fa. San Giuseppe nel giorno 19. Però si potrebbe pure organizzare le famiglie come erano i tempi di una volta che si mettevano il lenzuolo bianco nel balcone con la luce che ci dà abbastanza gioia anche per San Giuseppe. E di partecipare tutti in massa in quanto avere un po' di più fede, più partecipazione per San Giuseppe. Viva San Giuseppe! Viva! Da diversi anni anche a Pertinico la tradizione delle menze si è radicata nel territorio. Con lo spirito della cristianità, della solidarietà e delle grande devozioni nei confronti di San Giuseppe, abbiamo acceso i riflettori sulla mensa della Chiesa Santa, un quartiere dove è votata alla tradizione religiosa. È motivo di grande gioia il ritrovarci insieme come ogni anno a festeggiare la solennità del Patriarca San Giuseppe. Motivo di gioia che ci vede realmente qui molti non solo nella venerare la figura del Padre putativo di nostro Signore Gesù Cristo, ma anche nell'allestimento delle mense. Queste che sono realmente delle esternazioni di gioia e di omaggio che si trasformano anche in gesti concreti e grandi di solidarietà. È come in gran parte del nostro territorio, anche la nostra parrocchia, ha voluto allestire la mensa di San Giuseppe. È come ogni anno stiamo dando un qualcosa in più. L'anno scorso abbiamo parlato dell'importanza del mettere a disposizione i doni che il Signore ci ha dato. Ecco che è partita una gara di grande solidarietà nei confronti dei più bisognosi e le persone che in questo periodo di crisi necessitano anche degli elementi più essenziali. Quest'anno insieme a questa realtà così nobile abbiamo voluto aggiungere anche quella della condivisione. Ecco che allora non più il superfluo, ma la nostra comunità parrocchiale si impegna a dare ancora di più, a dare non solo il nostro tempo. Infatti sono partite delle realtà di volontariato che vedranno proprio in modo particolare le famiglie a sostegno della famiglia. Incidente stradale in via Notar Bartolo all'incrocio con via Asciuti a Palermo. Tra i mezzi coinvolti una Seat Ibiza, una Fiat 600 e uno ciclomotore. Nello scontro tra le due auto da avere la peggio è stato la Seat che si è capovolta. Uno delle due vetture ha terminato la sua corsa contro la colonnina del semafero che al momento è fuori uso. Sul posto la sezione infortunistica della Polizia Municipale. Quattro i feriti che sono stati trasportati negli ospedali Civico e Villa Sofia. Non si hanno ancora notizie certe sulle loro condizioni, ma pare che non siano in pericolo di vita. Diversa e sfortunatamente movimentata per padre Angelo del convento Frati Minori San Giovanni Battista di Palermo, il frate ha raccontato agli agenti che mentre stava uscendo per andare al vicino cimitero, tre malviventi con il volto coperto lo hanno bloccato legandolo con delle fascette e dopo averlo minacciato con una pistola gli hanno intimato di aprire due cassaforti custodite all'interno del convento. Dal rifiuto del padre è nata una violenta collutazione, a seguito della quale lo stesso ha riportato una ferita alla fronte. I tre hanno così cominciato a cercare le chiavi per aprire le cassaforti senza successo. Nella fuga uno dei tre ha perso un paio di guanti che probabilmente sarebbero stati utilizzati per non lasciare alcuna traccia. Continuano le indagini dei carabinieri. Dopo l'intervento di pulizia effettuato dal comune di Terrasini presso Villa San Giuseppe a più riprese nel corso del mese di marzo, sono tornate all'antico splendore anche le mura del Collegio di Maria che proprio sulla medesima piazzetta si affaccia. Questa volta il merito però va ai membri del Movimento 5 Stelle locale che armati di guanti e spugnetta abrasive hanno liberato le pareti dai manifesti elettorali e dalle scritte fatte con bombolette spray che ne avevano preso possesso. Gesto vandalico al campo sportivo Salvatore Favazza di Terrasini. I gnoti dopo aver rotto i catenacci del cancello d'ingresso si sono intrufolati all'interno della struttura comunale e hanno distrutto le docce degli spogliatoi. Alcuni giorni fa furono presi di mire invece i bagni per il pubblico che si trovano fra le tribune. L'amministrazione ha presentato denuncio contro i gnoti. Il sindaco Massimo Cucinella ha espresso grande dispiacere per il gesto vandalico che provoca danni ad un bene della collettività. Il primo cittadino ha poi fatto sapere che al più presto interverrà per riparare i danni. Una lite finisce in tragedia. Un ragazzo di 17 anni di Borgo Novo si trova in coma all'ospedale di Villa Sofia operato d'urgenza per ridurre un ematoma alla testa riportato dopo un litigio con un coetaneo. Il giovane sarebbe stato colpito con un pugno al volto. L'aggressore è stato identificato e denunciato dai carabinieri. Mercoledì 20 marzo alle ore 18.30, Partinico Comune si presenta ai partinicesi nei locali di via Principa Amedeo 115 presso l'antica fontana dei Tre Cannoli. Verranno affrontati argomenti ed iniziative per lo sviluppo sostenibile della città e del territorio. Sarà occasione per intervenire e per conoscere in maniera più approfondita le proposte e le iniziative utili alla crescita economica, sociale e culturale della città di Partinico. Ieri mattina il Papa ha aperto il suo primo Angelus affacciandosi dalla finestra dello studio dell'appartamento pontificio su una piazza San Pietro completamente gremita di fedeli, pronunciando con semplicità queste parole. Fratelli e sorelle, buongiorno. È bello vederci e salutarci di domenica in una piazza che grazie a media ha le dimensioni del mondo e tornando al tema della misericordia ha ribadito che la misericordia rende il mondo meno freddo e più giusto. La folla ha subito acclamato le parole del pontefice alla finestra, anche quando è tornato a spiegare le ragioni del nome scelto. Ho scelto il nome del padrono d'Italia, Francesco D'Assisi, e ciò rafforza il mio legame spirituale con questa terra, dove, sapete, ci sono le origini della mia famiglia. Un boato di applausi accoglie anche la chiusura dell'incontro con i fedeli, assolutamente inconsueto. Buona domenica e buon pranzo. Nell'immaginario collettivo, Papa Francesco è il Papa umile, che si rivolge ai poveri, che si avvicina alla folla dei fedeli per porgere il saluto. In altre parole, è il Papa che cambierà il volto della Chiesa. Con le nostre telecamere abbiamo raccolto i commenti della gente. Cosa ne pensi di Papa Francesco? Allora, l'impressione che mi ha dato è un'impressione molto positiva. Cioè, un Papa che esordisce alla sua prima frase, buonasera, insomma, ha dato il segno della sua umiltà. Non ha messo il, non so come si chiama adesso, il mantellino d'oro, insomma, ha usato la croce di ferro. Insomma, le cose che abbiamo letto tutti nel giornale e che abbiamo visto. E secondo me, oggi l'umiltà in realtà premia. Come ha detto Gesù, gli ultimi saranno i premi. Tu cosa ne pensi, Gino? Ma mi ha impressionato per la sua capacità di comunicazione, anche con i gesti, al di là delle parole. E la sua umiltà. Qualche madre di qualche desaperesito sui tempi dei colpisti argentini, fascisti, quelli che hanno imprigionato e fatto morire diverse persone, non ha la stessa idea positiva perché probabilmente non ha avuto il coraggio che occorreva nel pronunciarsi contro i fascisti al potere, distruttore della libertà di tante vite umane. Al di là di questo, pare che sia rispetto a altri papi, rispetto a chi ha gestito il potere dentro la curia romana, l'alternativa che io saluto positivamente. Ed è uno che pare che al di là della semplicità ha il polso per fare qualche cambiamento. Signora, cosa pensa del nuovo Papa? Che sia una persona giusta per il periodo in cui siamo. È una persona, diciamo, molto umile e ci voleva. È una persona corretta, a quanto pare da chi lo conosce, perché per noi è una persona... E la cosa che mi ha fatto piacere è che è di origine italiana. Da quel poco che ho visto, che ho sentito, mi sembra che sia una persona adatta per il periodo in cui siamo. E sinceramente è un augurio che io faccio sia a nome mio e a nome di tutti quelli che mi conoscono, insomma, che possa fare qualcosa per tutta la crisi, per tutto e per il periodo brutto che stiamo attraversando. Ma diciamo che si è presentato molto bene. Il solo fatto di chiamarsi Francesco, insomma, già la dice lunga. Cosa ne pensa del nuovo Papa? A me sembra che il nuovo Papa sia un grillino, porterà le novità nella Chiesa come i grillini porteranno le novità nella politica. Cosa ne pensa la sua umiltà? È importante, è la cosa principale nella Chiesa. È il Papa che occorreva in questa stagione. Quali sono le sensazioni che suscita? Ma una sensazione di tenerezza, di bontà, di umanità, di essere incontro ai poveri. Veramente è una cosa che ci voleva ormai, ci voleva. Cosa l'ha colpito del nuovo Papa? È il nuovo Papa del terzo mondo. Speriamo che sia buono per noi, il povere, perché è lui del terzo mondo. Sindaco, cosa pensa del Papa Francesco I? Da quello che ho avuto modo di vedere, percepire e anche sentire di gente che lo conosceva da molto tempo sta dimostrando un cambiamento nell'istituzione chiesa. Quella di una maggiore vicinanza alla gente e minore distacco come istituzione chiesa con la gente comune. Questo è un segnale che Papa Francesco I sta dando, il Pontefice sta dando e in questo momento la Chiesa ha capito che serviva un cambiamento, una persona più vicina alla gente perché la gente ha bisogno di tanta vicinanza e di tanto supporto perché si vanno momenti bui e momenti tristi e di grossa difficoltà. Il carisma di un Papa con queste caratteristiche sicuramente darà più linfa al mondo della Chiesa. Ma ora partiamo subito dal chiederti che gara sarà, gara 3? Dura, durissima perché loro erano senza Grignano, squalificata per due partite, rientrerà sicuramente il meno 19 e probabilmente non se l'aspettavano neanche loro. e quindi giochiamo fuori casa, ci sarà da soffrire. Però alla fine dico una cosa, il campionato non l'avremmo dovuto vincere noi, non lo dovremmo vincere noi, lo dovranno vincere loro. Per cui già essere arrivati a gara 3 di semifinale contro la prima in classifica che le ha vinte tutte tranne una per noi già è fondamentale. Certo, l'obiettivo dovrebbe essere quello di andare a vincere pure sabato prossimo e provare a continuare a sognare, però da neopromossa credo che finora abbiamo fatto il nostro. Oggi una gara tiratissima fino alla fine, poi si è scatenata Fazio, però loro c'erano fino agli ultimi due minuti. Allora una squadra completa, non a caso sono arrivate prima in classifica. Se tu le vinci tutti, perdi soltanto una partita di due fuori casa, vuol dire che sei una squadra attrezzata per il salto di categoria. Hanno preso Nosella che fino a due settimane fa era in A2 a Viterbo, proprio col chiaro intento di salire. Noi quest'anno abbiamo avuto una stagione travagliatissima, piena di infortuni, non ci siamo riusciti ad allenare per come avrei desiderato. Però ripeto, essere arrivati a gara 3, già per noi il massimo è la soddisfazione. Vincere sarebbe il top. Non mi aspettavo questo arbitraggio, mi dispiace. Purtroppo le partite si vincono in campo e io credo che non si può fare una partita di basket con due metri diversi di valutazione. Io sono d'accordo se uno deve dare legnate e le dobbiamo prendere, le prendiamo ma non che appena tu tocchi l'avversario e sempre fallo. Questo non lo è, intanto che hanno buttato fuori l'A13, hanno buttato fuori Nosella che non si poteva toccare sia con le giocatrici che tutte le volte che penetravano spingevano col braccio e buttavano a terra gli avversari. Se uno veniva buttato a terra chiamavano simulazione. Prima. Secondo, l'arbitraggio deve essere uguale da tutti e due lati anche per poter capire come poter difendere sull'avversario. Mi sembra questo. In più, i tecnici l'hanno dato a me e alla 13, dopo che sia Gattini che le altre giocatrici del Castellammare, quando è uscita Gattini, li sono andati alle arbitri a ridere, a prenderli in giro e non gli hanno dato neanche tecnico. A me questo non vale. Le partite non si fanno così, ma ora avremo la bella, ci sarà Grignano e sarà tutta un'altra storia.